Due passeggeri su 30 sono risultati positivi al coronavirus. Si erano sottoposti a tampone ieri mattina all'aeroporto d'Abruzzo appena sbarcati dal volo Londra-Pescara e si tratta di due giovani. Tutti i viaggiatori a bordo del velivolo dovranno comunque sottoporsi a quarantena obbligatoria di 5 giorni così come previsto dalle disposizioni nazionali e come già avvenuto per i passeggeri che erano tornati da Malta. Tutti i particolari state vedendo anche nell'articolo che abbiamo pubblicato sul sito internet di Reteotto l'indirizzo telematico è www.reteotto.it